Ha toccato anche la nostra regione ed in particolare la Marsica, l'operazione denominata Rail Action Dai Active Shield, svolta in contemporanea con 17 paesi dell'Unione Europea e con la finalità di porre in essere preventivi controlli a viaggiatori e relativi bagagli presenti a bordo dei convogli ferroviari, con particolare riferimento a quelli che effettuano lunghe percorrenze. L'attività della Polfer del compartimento di Ancona per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo è stata condotta anche con l'ausilio di unità cinofile, metal detector e smartphone di ultima generazione, grazie ai quali è stato possibile verificare i documenti elettronici in tempo reale. Nella stazione di Avezzano un uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Lo stesso, dopo essere stato visto dagli agenti a girarsi con fare sospetto nel parcheggio dello scalo ferroviario, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 7 centimetri ed una chiave esagonale in acciaio. Sempre nella stazione di Avezzano, nei confronti di un 35enne italiano, è stato applicato il DASPO urbano in quanto l'uomo con la propria condotta ha limitato la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture di trasporto e per questo, come previsto dalla norma, è stato allontanato dalla stazione per 48 ore. In totale nelle tre regioni sono state identificate 312 persone e 96 bagagli, 87 treni e 40 stazioni controllate nei giorni 26 e 27 giugno dal personale della Polizia di Stato.